buongiorno ragazzi allora tenuta stra invernale con maniche lunghe fa freddo ho dovuto mettere un pile sotto la camicia perché qui inizia veramente a gelare finché non mi decido ad accendere a descaldamento che non sto accendendo per questioni filosofiche allora non so da che parte incominciare oggi perché devo sistemare la fack machine devo andare avanti col banco fresa c'ho uno schifo in laboratorio che non finisce più quindi direi che come tutti lunedì incominciamo con un bel clean monday e podcast fare dell'apprendista a vista vediamo di dare una pulita poi voglio risolvere la fack machine in quattro secondi netti così almeno poi posso procedere col banco fresa perché ci ho fatto una pensata è un casino ci vediamo tra un po allora eccoci tutto tutto ma proprio tutto 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 pulito pulito a bestia non ho lavato per terra però sia passato la scopa che aspirato prima o poi però comunque una lavata per terra devo dargliela magari con una bella macchina industriale devo dire c'è qualche azienda che fa una macchina per pulire per terra che non mi mandate il link delle macchine con uomo a bordo perché non mi metto qua a fare i go kart il laboratorio adesso mentre cerco di capire se occuparmi subito della fack machine per cui ho mandato un messaggio voglio essere sicuro quello che devo andare a fare o del banco fresa mi è venuta un'idea il banco fresa io devo costruire tutto ciò che riguarda sotto oggi l'aspirazione quindi il cassone che ricopre la la fresatrice sportelli o cassetti davanti per cui ho un'idea di massima mentre pulivo venuta da perché stare a costruire qualcosa di inutile che esiste già quando possa andare come al solito a prendere qualcosa che ha un utilizzo diverso e riadattarlo a questo ho dato un'occhiata in internet le misure e l'idea è perfetta quindi devo ripassare la tecnica ma prima volevo condividere con voi una cosa sulle curve ho messo in pressa la curva numero 7 la 6 in pressanna e riguardo la curva numero 7 che ho appena tolto dal vapore messo in pressa ragazzi doveva succedere prima o poi col calcolo delle probabilità di farle tutte doveva accadere ho ottenuto la curva perfetta ma perfetta nessun dislivello tra i listelli nessuna torcitura nessuna piegatura perfetta una curva sembra quasi un pezzo intero col calcolo della probabilità prima o poi sarebbe successo e siccome sono psicopatico e tengo i conti di tutto questa è la curva numero 7 è la prima della seconda tavola che ho tagliato finora le tavole erano quelle di listelli che ho tagliato erano la prima tavola questa è la seconda non ho idea che differenza ci sia tra la prima e la seconda se non le venature che erano leggermente meglio la terza sarà quella con le venature perfette che abbiamo fatto vedere all'inizio e infatti quando l'ho tirata fuori sia dall'acqua che dal vapore questa non era un serpentone era erano dritti cioè gli stelli erano perfettamente dritti tirati fuori dal vapore ragazzi non che le altre non vadano bene vanno comunque bene però quella la curva è perfetta spessore è sempre diventato 35 quindi si è sempre gonfiato di più quindi anche quella anche se è perfetta dovrò portare al pari con tutte le altre dopo ma ci pensiamo però questa curva qua è spettacolare tanta roba ora mentre aspetto la risposta per la faccabascina e cerco di capire su cosa muovermi faccio un salto al tecno ma tanto è beh sono già le 10 non è presto presto comunque il tempo che ci vuole ci vuole ci vediamo più tardi allora ragazzi alla fine mezzogiorno non che io abbia cazzeggiato oggi perché tra pulire tutto fare le curve una roba e l'altra si è fatto mezzogiorno sono sempre in debito di tempo mi piacerebbe tutte le mattine iniziare lo show alle 8 e finirlo alle 8 ma i collaterali tipo pulire organizzare recuperare i materiali sono sempre un casino mi serve un assistente personale lo diceva ieri Anna ma a me sembra una stronzata detto questo finiamola con le cazzate oppure iniziamo con le cazzate dipende dai punti di vista ho recuperato secondo me tutto il materiale che mi può servire per il banco fresa e come vi dicevo sotto non ho intenzione di costruire robe già fatte quindi questa è la giornata degli accrocchi come al solito quando prendo pezzi che non c'entrano niente li utilizzo per fare qualcos'altro vi faccio vedere cosa ho comprato allora il tubo d'aspirazione con diametro 60 che serve per l'attacco della battuta e l'attacco che poi userò qua sul fianco quello che voglio fare per raccogliere tutte le polveri che vengono spinte dal pezzo quando si fa la fresata cieca e per adesso lo mettiamo qua va che bel caralino organizzato poi serve fare sotto il contenitore delle polveri di solito si fa tutta una cassetta sotto un cubo che si va a applicare sotto intorno alla fresa lo producono anche certe marche tipo la Rockler e poi da dietro parte l'aspirazione perché io sotto lo organizzerò così i fianchi saranno chiusi esattamente come il banco da guerra e poi ci saranno cassetti profondi da una certa misura in giù e poi più corti solamente una certa misura in su davanti idealmente per ora è tutto a cassetti poi vedremo dietro invece rimarrà completamente aperto perché non mi interessa chiuderlo renderlo preciso perché voglio usarlo per avvolgere il tubo quando stoccherò via il banco e quindi mi sono detto che voglia ciò di costruire lì tutta una struttura che poi sono cinque assi di legno fare il foro rotondo per incastrare le mie curve fare tutte le robe non c'è niente di già fatto e allora ho pensato bene di comprare un pozzetto non so d'acqua da fogna non lo so il pozzetto il vantaggio cos'è ha già un suo una sua apertura è in plastica e ha già anche tutti i pretagli per le varie misure infatti è perfettamente va è già fatto apposta quindi non mi devo neanche rompere le palle più di tanto ma ovviamente e c'è un ma i pozzetti ci sono da misura esterna 30 misura esterna 40 50 c'è anche da 20 quello da 40 era enorme quello da 30 è un filino piccolo quindi va ovviamente modificato tutto reso coeso in modo tale non ci siano perdite d'aria trovare il modo di agganciarlo sotto e a seconda del risultato che otterrò con l'aspirazione vedere se ammorbidire gli spigoli oppure no questo in realtà lo vedo tutto dopo in fase di test per il semplice motivo che secondo me è talmente tanta l'aspirazione è talmente perfettamente zenitale sotto la fresa che se anche qua dentro è fatto a spigoli non è un problema però mi riservo il diritto di vederlo dopo qual è il problema del pozzetto? visto così il pozzetto sembra logico utilizzarlo in questo senso quindi calzagli sotto la fresa peccato che io invece voglia l'apertura nella parte laterale o nella parte posteriore perché io devo poter accedere alla fresa un po' per pulire un po' per regolare i giri perché non voglio mettere un regolatore esterno insomma devo comunque poter accedere alla fresa anche per pulizia quindi dovrò usarlo in questo senso quindi in questo senso io dovrò aprire qui un'apertura poi trovare il modo di tenerlo contro e poi fare tutte le varie tubazioni e innesti vari dal tubo che uscirà poi dovrò fare le due derivazioni dal tubo da 140 che uscirà dovrò fare le due derivazioni dei due tubi da 60 qualcuno mi ha detto perché mi ha chiesto perché non faccio direttamente attaccato allo scatolo i due tubi da 60 perché non funziona così l'aspirazione l'aspirazione deve prendere tutto dall'unico flusso se lì dentro si creerà un vortice se io lì dentro attacco a questo attacco direttamente i tubi da 60 non aspirerebbero praticamente niente è sul connettore d'aspirazione che ci vogliono i tubi qualcuno ha anche mosso l'opzione che l'aspirazione da 140 è troppo grande potrebbe essere inefficace secondo me no in base alla mia esperienza dell'impianto ecco qua comunque faremo come di consulito i test perché comunque è tutta una supposizione qualcuno ha anche già detto che probabilmente l'aspirazione invece viceversa sarà troppo potente mi interrà incollato il pezzo e da qui vedremo se basta tenere aperto anche le altre due aspirazioni quella da 60 per ridurre la potenza oppure dovrò fare una valvolina qualcosa la prima cosa è andare a modificare questo non so bene come non so bene perché ma sicuramente col tremor tremor e facciamo tutta una struttura in modo tale che si possa agganciare sotto io ho comprato anche la sua cornice da aggancio che però è pensata per agganciarsi qua è pensata a pestare così anzi in realtà mi sa che è pensata a tipo pestare così ma non importa a me non me ne frega niente perché tanto io devo andare a modificarla per farla stare qua perché questa è la mia idea questo sta qua tutto sta agganciato sotto e io non ci sto per un pelo quindi dovrò far fuori dei pezzi quello viene dietro in modo che chiuda e quello lì parte da sotto questo è tutto l'accrocchio di modifiche che devo fare qui adesso plastica polvere di plastica ovunque che direi essere l'ideale dato che ho appena pulito tutto no? si va perfetto sono fiducioso che possa venire un lavoro fatto bene tanto poi ovviamente tutto verrà dipinto di nero ok il primo pezzo è andato ho tolto l'interno della cornice che serviva a dare struttura ma a me non serve assolutamente a niente ho girato il banco e ora ci sono ovviamente lì andranno tutto ci sta veramente veramente al pelo pelo ma è così che l'ho calcolato perché è così che lo voglio che non voglio che si crei una camera troppo grande poi qua sotto sarà da spessorare per evitare che ci siano fughe d'aria o forse no non lo so ora c'è da capire come questo deve andare su questo quindi ora c'è da modificare il grosso perché io ripeto l'apertura voglio sfruttarla come pannellino di spezione poi se arrancar via tutte queste cose qua in cui si potrebbe incastrare polvere o se questo qua mi va bene così oppure no non lo so lo vediamo dopo se va fatta una culla perché scivoli di più lo vediamo dopo dipende anche molto dal foro poi in realtà tentare tentare di far sì che il banco fresa sia privo di polvere è un po' come il banco della troncatrice è vuoto a perdere cioè è proprio un'operazione inutile tentare di farlo l'importante è che contenga le polvere cioè che ne vada meno in giro se poi qua sotto ogni tanto è da pulire a me va benissimo cioè se quello lì poi rimane tutta la polvere lì dentro e quello lì non rimane l'indepulito frega niente basta che non mi vada in giro basta che venga raccolta lì ogni tanto te il dervat cioè lo apri lo aspiri un po' e basta vediamo di fare sta modifica intanto 2 o 3 mi avete chiesto ma 2 o 3 veramente che io trovo allucinante che siete stati in 2 o 3 a chiederlo se c'è la possibilità che la potenza dell'aspiratore faccia implodere il pozzetto ah ma sei con il giorno prossimo che si lamentari com'è carteggiare l'MDF e faccio carteggiare la plastica ad ogni modo allora non sono convinto di aver fatto la scelta più giusta nel prenderlo da 35 da 30 perché ci sto proprio al pelo 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 dovrò verificare bene che il sale scendi della fresa funziona purtroppo la 35 non c'era l'ho visto in internet ma volevo recuperarlo subito e da 40 era troppo grande non tanto per larghezza quanto per altezza quindi per profondità mi avrebbe vietato di fare i cassetti nella parte bassa profondi come voglio quindi come al solito per tentativi procedo con quello da 30 se poi proprio non mi viene domani mi compro quello da 40 dato che queste cose costano niente e poi casomai lo abbasso in altezza vedo qualcosa questo è tutto sfondato ok c'è tutto levigato tutto fatto da registrare però ho aperto la ferritoria anche di qua ora c'è da incastrare questa su questo e poi saldarlo quindi dovrò prima adattare la cornice che non è un gran lavoro e dopo saldarlo con lo solito stucco bicomponente plastico che torna praticamente plastica se è andata bene per la presa del ferro da stiro va bene anche per questa e magari qualche qualche rivetto qua e là allora questa è la forma finale che deve avere una volta assemblato quindi questo pezzo si deve saldare a quello di sopra con tutto con lo stucco bicomponente li mando un pelo le schifezze e facendo sparire tutti i buchi in un tale da poterlo agganciare non un gran lavoro diciamoci la verità una roba veramente facile facile da fare però prima devo mettere a posto questo casino sennò mi parte un momento bestemmia che non finisce più adesso basta aspettare che asciughi lo stucco ci vuole una decina di minuti ed è già duro poi tra 24 ore diventa praticamente indistruttibile e posso carteggiarlo leggermente anche se in realtà frega poco fatto quello è diventato una comodissima patumiera finché non ci metto no la resina no e poi posso procedere al buco di fondo rispondo a un paio di domande qualcuno mi chiede perché non l'ho fatto in legno allora l'ho detto stamattina perché costruire qualcosa che alla fine è una scatola in legno quando poi c'è qualcosa già fatto è vero che lo sto modificando tutto ma in realtà il vero motivo è perché come ho detto più volte io qui non sono in produzione quindi scelgo come fare quello che devo fare anche in funzione di quello che ho voglia di fare non avevo voglia di fare un cubo di legno e allora ho detto ma riadatto questa roba qua in plastica così almeno poi diventa tutta nera diventa di plastica ha un sapore un po' più tecnico come tutta nera sembra anche il tesseract cioè mi piace avevo voglia di fare un lavoro con stucco e plastica così avrei potuto farla in legno ce l'avrei messo probabilmente anche meno ma oggi non avevo voglia di fare un cubo di legno quindi qui le lavorazioni le faccio in funzione soprattutto di quello che ho voglia di fare qualcun altro invece si pone il problema se con uno spazio così resicato ammesso che il sali e scendi funzioni il sali e scendi funzioni lo stesso non c'è rischio di surriscaldamento della fresa allora innanzitutto lo spazio resicato è sul sali e scendi e quindi non sulla fresa e poi col flusso d'aria che ci sarà dentro direi che poco non si può surriscaldare la fresa cioè garantisco il biksuka aspira una bestia quindi di sicuro non si surriscalda no adesso appena asciutto carteggiatina e poi faccio la prova di infilaggio poi mi tocca girare di nuovo il tavolo magari solo di 90 gradi perché pesa veramente tantissimo mi serve aiuto per riportarlo in piedi come prima e provo il sali e scendi vediamo niente quando fai una cazzata fai una cazzata vi faccio vedere devo cambiare storia perché non posso girare la camera ho comprato estemporaneamente quello da 30 e non quello da 40 perché mi sembrava troppo grande al 30 ci sta il pelo allora scorre su in giù scorre su in giù perché striscia sui fianchi e non è un problema tanto quello è fissato il problema è che secondo me una camera troppo grande crea troppa dispersione di flusso d'aria ma una camera troppo piccola non dà il tempo a tutta la polide di venne giù si fermerebbe tutta qua long story short serve quello da 40 non quello da 30 quello da 30 non va bene solita vecchia storia ragazzi a intraprendere strade non battute ogni tanto si pesta una merda può capitare nulla di male vado a prendere quello da 40 cosa ci posso fare eh sì proprio sì non mi convince a farlo così così al pelo 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 secondo me così non aspira niente è come averlo enorme vado a prendere quello da 40 giornata un po' così ragazzi fra l'altro c'ho ancora l'emicrania per cui anche oggi non è giornata capita show un po' moscio vado a prendere quello da 40 allora ho fatto velocissimo recuperato Rocco da 40 va benissimo ora regiro il tavolo cerco di ignorare il mio mal di testa fotonico e vado veloce vado spedito perché l'obiettivo di oggi era avere in piedi la parte sotto lì dell'aspirazione e sapete che se non raggiungo l'obiettivo mi girano le palle quindi corro corro mi girano Ciao, 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 ciao hanno asserito che il mio mal di testa dipende dal freddo no ragazzi non dipende dal freddo soffro di emicrania da sempre emicrania grappolo c'è una mattina che mi sveglio vorrei staccarmi la testa e mattina che va tutto bene non è il freddo anche perché vi garantisco che muovendosi tutto non fa freddo e poi non è così eccessiva eccessivamente bassa la temperatura vi ringrazio soprattutto quelli che hanno detto normale che tu abbia freddo accendere scaldamento metterà i medici in sala allora adesso so esserci il giusto spazio e il giusto ricircolo d'aria ho dovuto aggiungere ovviamente dei traversi per poterla fissare ma niente di che ora il foro poi la fisso la tappo e facciamo subito un test perché è questo che mi preme anche se è l'ora di pisciare i cani adesso vedo facciamo devo fare il foro purtroppo a differenza di quella da 30 quella da 40 non ha il foro predisposto per il 140 perché ha il foro predisposto per 100 125 160 200 e 250 ma non il 140 porca di quella porca come anticipato non userò due curve a 75 ma bensì userò una curva a 90 adesso non torniamo a cicciar fuori tutte le questioni della perdita l'aspirazione per la curva e bla 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 potenza ne ho a strafottere va benissimo così a me serve che non venga troppo alta e le due curve vengono troppo alte o meglio troppo basse e mi vietano di mettere il cassetto sotto quindi così è e così sarà sta diventando qualcosa la capitano nemo io confido che una volta tutto nero abbia un altro sapore è leggermente inclinata indietro proprio per il defluire delle polveri cioè non l'ho messa in bolla perfetta proprio per quello quasi tutto pronto per la prova d'aspirazione che ovviamente richiederà girare il tavolo e tappare il coperchio ma presumo anche aggiungere due maniglie e una guarnizione al coperchio devo avvitare le viti devo rivoltare il tavolo e bla 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 ma prima mi tocca pisciare i cani rettifico non voglio un assistente personale voglio un dog sitter grazie non lo ribalterò mai più allora il bello che rimane tutto comunque più o meno invisibile quando sarà nero anche da dietro non si vedrà niente di fianco manco per le palle e davanti avrai cassetti per cui no collegamento a qua qua è fisso il tubo la lunghezza ho lasciato quella che avevo lì è quello è un test al ribasso è un test al ribasso perché io cosa ho fatto nella parte qua vediamo se riesco a farai vedere no comunque lì ecco forse si vede così no vi dovete fidare sulla parola qua comunque ci sono dei c'è un tutto uno spazio che va dentro la camera e non è anche sigillato questo con la guarnizione quindi qua e di là c'è tutto uno spazio infatti se io accendo qua sento aria e l'ho lasciata dicevo che l'ho lasciato provvisoriamente per fare come al solito le cose a gradi per vedere se la potenza così poteva andar bene perché se così va bene con quello sfiato d'aria non vado neanche a tapparla se non vado a tapparla farò due prove una con la tavoletta vedere quanto la tiene giù che non la deve tenere giù però un po' di resistenza deve farla per capire se è troppo poco o è troppo e poi con un po' di segatura io l'ho già acceso e secondo me va tappata anche tutta quella quella parte lì sotto che però tapparla posso farlo solo che una volta che ho dipinto tutto adesso appiccio a mano ecco già il fatto che il tubo non si muova vuol dire che c'è una perda infatti qua si sente aria no un po' di resistenza la fama non troppa però anche qua si sente un flusso d'aria arrivare qua davanti invece no il tubo comunque si muove perché ora vediamo come funzica va aspirare aspira perché pensate che il pezzo va passato sopra quindi aspira e aspira anche da qua ho spento così ci sentiamo aspirare aspira e aspira vedete qua rimane lo sporco e aspira anche da qua perché la camera ingloba questo punto qua ora voglio vedere se adesso dentro è sporco o pulito però mi servono due mani per aprire allora al di là che è del cavo che non deve essere qua dentro e rompe le scatole dentro è abbastanza pulito non è che ne abbia buttata dentro granché ma ne ho buttata sicuramente più di quella nell'angolo però ripeto a me che rimanga qua frega veramente veramente poco che rimanga qua dentro la segatura quello che adesso faccio un'altra prova lo richiudo tappo lì di fianco con banalmente degli stracci anche se poi in realtà lì dentro andrà tutta una roba di colla a caldo o silicone e rifaccio la prova allora ho tappato tutto sotto ed è cambiata radicalmente ovviamente perché adesso è proprio incolla incolla ah si ok adesso è come deve funzionare va bene ok funziona così ok va bene nessun dubbio qui ci vuole qualcosa aspetta che spengo sto bordello allora considerando il fatto che poi l'aspirazione sarà attenuata dal fatto che sarà sdoppiata anzi triplicata perché ci sarà quella imbattuta e quella alla fine lì sotto bisogna tappare quella feritoia lì che però è una cosa che voglio fare esclusivamente una volta aver dipinto il pozzetto quindi direi che adesso sia alle 7 uno può benissimo mettersi a staccare tutto e mettersi a ripigere il pozzetto poi domani penso alla tubazione fare la tacca e stacca la tubazione con la deviazione no problemi allora mentre questo asciuga e poi dovrò dargli un'altra mano girandolo perché maledetti cilindri però già ho fatto anche il dentro alla bene meglio tanto dentro chi se ne frega però le lower pro sono sempre una garanzia un altro lavoro da fare alla fine ho girato il banco è ruotare la fresatrice perché io ho bisogno che sulla parte dietro cioè di qua dove si apre ci sia l'accensione e spegnimento anche se in realtà è derivata ma soprattutto la regolazione questa qua dei giri ho detto una cazzata non posso girare la fresatrice per il semplice motivo che dall'altra parte il cavo di alimentazione romperebbe le palle al sale e scendi ho dato l'istruzione così va messa sembra che non ci sia la possibilità di girarla e va bene intanto il tasto di accensione non lo devo accendere e per il resto mi inventerò qualcosa no problem non penso a sciogli il tempo stasera quella roba per Paolo invece chi mi ha scritto preparatevi eh preparatevi fate un momento di raccoglimento chi mi ha scritto secondo me la fresatrice così si rovina non va bene perché la segatura cade attraverso la ventola l'aspirazione passa dentro la fresatrice e si rovina tutto Paolo imprecazione casuale è fatta apposta cioè è una fresatrice da banco sta sotto alle ventole sopra e l'aria la attraversa l'avranno studiata che la segatura ci va sopra o no o hanno cercato di produrre una fresatrice che si rompe con la segatura dimmi te vedete qual è il bello delle low repro le low pro quelle lì le vedete? guardate cosa ho spruzzato 10 minuti fa posto non se ne parla più già asciutto dai che lo rimonto eccolo qua è elegantissimo ragazzi ve lo faccio vedere sotto è elegantissimo black all black non si vede assolutamente nulla quindi anche se dietro rimarrà completamente aperto così perché avrà due fianchi di là ai cassetti qua comunque sarà bello così col manigliozzo l'aspirazione l'altra maniglia sopra che aiuta a stare bloccato ho aggiunto anche le viti anche se sono inutili ho già tirato fuori l'alimentazione e black black ci sta domani seconda parte di tubo con le derivazioni e poi magari riesco a già mettere assieme anche qualcosa sicuramente il sistema attacca 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 e stacca lì o attacca e stacca lì non lo so se lasciare questo tubo sempre attaccato lì non lo so ci penso domani e poi magari riesco a già mettere assieme qualcosa per l'aspirazione sul fondo anche se no non l'aspirazione sul fondo se mi avanza tempo inizio ad allestirlo dentro quindi fianchi cassetti accensione questo almeno lo mettiamo in moto anche se domattina è una gelata un po' pienotta perché domani è una gelata un po' pienotta perché arriverò tardi che ho la gioia di dover andare in banca a fare altre commissioni e per giunta il pomeriggio non so che ora verranno a liberarmi di tutto la fogna che c'è di là e non vedo l'ora perché quando avrò lo spazio vuoto potrò finalmente pensare a come fare la saletta di là che ripeto nell'idea attuale è una sala relax quando viene gente vorrei che diventasse un polo con un po' più di gente un polo attrattivo ad ogni modo la bomboletta non ha certo giovato al mio mal di testa ci vediamo domani ci vediamo che ci vediamo Grazie a tutti.